...fuffie in tuo stesso commento però l'audio di gioco dal salottino mi ha detto come si sente intanto si fatte subito allora ma chi... dove cazzo è? gira ma non c'è mi sento una manza questa volta queste cuffie non vanno l'importante è che lo stream varia per ora ho già voglio rompere l'audio vantaggio vantaggio per modo di dire perchè ci vuole poco eh guardala è un eroe nel suo gioco ma su smash è tipo un ladro beh è già un vero rissa nel suo gioco è un delinquente ma qua è delinquente per davvero ok ok questo lo sta lanciando sta facendo il giardiniere allora questo lo ammazza lo ammazza ok allora abbiamo un ivisaur che sembra sicuro di sé lancia i semi sputati esatto questo cloud che cerca di di tenerlo bello distante con la sua serie di backhair ma va va perchè va perchè cloud quindi cloud va vuole rubarlo ma non riesce vediamo se vediamo se vediamo oh mamma mia la smash questa volta la jump che ha ammazzato hai visto la jump si esatto e poi abbiamo squirtle squirtle che ha ancora sputato nessuno ok però fa acqua mamma mia che collata che ha preso mamma mia mamma mia voglio non vuole giocare mamma mia che disastro questo Imper è in difficoltà in questo momento abbiamo cosa vorrà fare Yorom in questo momento ha tipo la lead totale con questi perry mamma mia e poi si lancia come una tartaruga ora comora sta conducendo il tuo Yorom si assolutamente è questo ivisaur pericolosissimo perchè hai visto che fa la frusta fa una frusta non si sta praticamente come una tartaruga guarda guarda fa la frusta bassa mamma mia si cazzo raga è in difficoltà questo cloud ok forse c'è un margine di recupero con questo limit ma abbiamo l'erba ok uuuh up b e finisce cose mamma mia gli frusta nelle chiappine ha letto le mani mamma mia l'ha frustato l'ha frustato gli sarà piaciuto a cloud a cloud piace essere frustato non lo so beh tifana combatte niente eh è canonico il masochismo di cloud maggiore mmm però chissà la sfera sessuale privata di cloud cosa c'era dovresti chiedere Anomura Dovresti chiedere Anomura Anomura mmm quello impegnato a fare il 16 mi sa adesso eh bene si si confermano i personaggi il primo pokemon trainer cosa farai per Andracloud o Mammelloidi io penso Mammelloidi il gargantuesca Mammelloidi no è sicuro di sé è sicuro di sé è sicuro di sé un vero uomo schifosamente sicuro anche fastidioso direi biondo che conquista tutto io sono squirti esatto perché c'ha gli occhi c'ha gli occhi color squirtle significa che sono azzurri o che vuole ammazzare squirtle oddio santo abbiamo questo squirtle che comunque aglia squirtle pronta squirtle esatto intanto gli fa un bel 50 praticamente ma Claudio non si arrende Claudio 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 cioè ha battuto Serafino Claudio e quindi non so se non Serafino intendi Serafino 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 mamma mia gli tira foglie gli tira ganja oh mamma mia lo fotte mamma mia l'ha fottuto di brutto ma questo 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 pokemon trainer lo odio perché cioè l'ha rubato povero Claudio che ha recupero di merda senza il limit e mamma mia gli sta leggendo la vita cosa sta succedendo imper mamma mia scambio di colpi è molto molto safe for your home guarda guarda come fa le finte non fa si avvicina senza fare nulla per fargli andare a vuoto gli attacchi imper da sotto sicuramente è avvantaggiato con Claudio sto andando troppo aggressivo perché sicuramente vuole recuperare mamma mia back throw chiaro recupera dall'alto per chi no? per due situazione mamma mia ok col secondo hit dell'app si salva wow forse lo può ponire ok questo c'è il trombo carica mamma mia il trombo carica non è andata a casa ok abbiamo un big boot in faccia a Claudio e la caggia a fiamme e lo perdono e lo perdono e lo perdono e lo perdono e cosa è successo? non riesce a perdere perché Claudio ha momenti di disarmi forse la cangia che gli sta lanciando lo sta sballando eh sì è un effetto secondario adesso è imper e sordito e imper raga è nella merda si è confuso da coprirsi la storia a questo punto ho tifferi per imper anche se usare le mammelloi per carità si un po' per pietà perché mamma mia gli sta perdendo la vita cazzo basta ok niente non va non va non trovo a perdere oh imper è già passivo ma sta no guarda sta dominando il campo Yoram è suo oh oh mamma mia mamma mia mamma mia gli apre l'erboresteria da sotto ho sentito l'esplosione da mamma mia brutale gli esploso il cuore gli ha letto tutto e non solo quello gli ha letto ogni cosa leggibile mamma mia che disastro che disastro in più è stato battuto da una femmina dall'allenato di pokemon femmina è un duro colpo al cuore per io siamo due a zero vediamola una fan crowd sempre uno di nuovo crowd quindi quindi cioè ragazzi io io mi chiedo perché cioè voglio dire forse le mamma lì avevano più speranze di farci guarda guarda quanto è felice l'allenatrice di pokemon ma è squirtamelo credo in te credi nell'amicizia ok questo cloud sembra partire meglio attenzione potrebbe comunque ribaltarsi la situazione non è mai dire mai però di sicuro Yorom è molto più tranquillo di lui in questo momento non ha tutta la pressione che sta per lui esatto però se si lascia colpire a tutti questi nair ok no se cosa lascia i semi e funzionano incredibile è quasi morto sta per il muoio imper è nei guai mamma mia di pochissimo imper sta facendo sempre lo stesso recupero tra l'altro il cannon è una cosa vantaggiosa ok ganja ganja ma lo blocca il back air questo imper deve assolutamente fare qualcosa fare qualcosa ma che cosa perché questo nuovo ragazzi mi sta leggendo tutto però dai sono più o meno even anche se charizard è bello pesante eh ma charizard è bello pesante no upthrow resiste ottimo la jeb che non le ammazza le ammazza ma mette fuori addirittura 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 così forte complimenti a him minchia ha scoppiato tutto ha scoppiato tutto cazzo minchia questo limite è andato oltre il limite del limite del super sadian ha scoppiato il controller di Impair ma che cazzo è il controller di Impair ma che cazzo è il controller di Impair ragazzi ma è svenuto Impair che cazzo è successo o è esplosa la Switch c'è no la Switch c'è c'è mi sa che è esploso il controller di Impair si no è esploso il controller di Impair o è esploso Impair quella firma di Cloud ha dato l'ultimo giudizio sul controller ah rage quit basta questa te la tolgo finita esatto finito ha vinto ok ragazzi ha vinto Impair 3-0 finito non basta il suo limite è entrato basta così è your home che va no questa è questa è una è una win quindi il prossimo che perde questi due vai in loser eh nel frattempo stanno facendo il massaggio cardiaco Impair si è scaricato il controller in quell'esatto momento ok praticamente vi spiego ragazzi la nostra infermiera sexy Aeon è andato a fare il massaggio cardiaco a Impair e si è ripreso ma il suo joystick no il suo joystick no a quanto pare allora abbiamo quindi siamo sicuro andate possono partire ci danno la conferma che si riparte si riprenderà da una situazione molto stupida tipo tipo un charizard che sta per volare nell'oblio no mi ha aspettato il il timing comico ok ecco lo mi ha avuto è stato letteralmente il momento migliore in cui si potrebbe scaricare il profontrol pensa se si fosse ecco la razza di cambia si fosse spento un attimo prima di questa idea guardate quanto è cattivo questo squirtle ragazzi ma la squadra lo lancia lo lancia lo lancia a mani ok up b per far capire che non può fare quello che vuole questo squirtle insomma è perrima amma mia Impair vittima delle prese vittima di questo foco di Ray si no ma poi c'è questo squirtle guarda sta anche brillando fair dash attack la spadatta va a vuoto mamma mia il piantasauro il piantasauro oddio questo piantasauro oggi è fortissimo no dove di fare il town air mamma mia esatto ragazzi qui qui c'è qualcosa che voleva esatto tra l'altro Charizard aveva i peli un tempo ma dopo l'attacco di Cloud dubito ci deve ancora esatto ganja ok e per questo peggio chiudono ganja mamma mia mamma mia ok e in questo momento voglio Roma essere in svantaggio da notare come come Impair stia giocando meglio uuuu mamma mia colpo di frusta di fuoco vediamo come va un attimo della verità per Intel esatto potete tornare ma lontanati di lontanati anzi passate l'altezza del nucleo però vabbè ok stiamo stasfarfallando molto ok allora c'è una ma ragazzi scusate dovevo urla da 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 ecco adesso mi stiamo allontanato da allora sta dominando Imper potrebbe chiuderla in qualsiasi momento soprattutto Mamma mia c'è il dito! Non lo lasciare sceggere! Forse è nella merda Lancia la gangia, la gangia funziona Mamma mia! Becker che prende da davanti La tira è un passo in più Adesso prendere i murmeluidi e infine ci mettiamo tutti lo zaino e possiamo anche andare a casa. Commentari finisce qui. Quello femminile. Quello femminile. Quando è che parte il pornazzo? Nella salottina. Niente pornazzo, non mi dispiace. Princess Peach Castle? Ah, è quello. Princess Peach. Rimane convinto del biondo? Ok, perfetto. Io non credo che avrebbero le sue moglie. No, oggi non è il mommeluidi. Oggi non è il mommeluidi. Troppi Steve. Steve ha allontanato dai ragazzi. Esatto. Steve ha allontanato dai ragazzi. Steve ha allontanato dai ragazzi. E ora sarebbe qualcuno allontanato dai vostri. Sì. Bene. Si studiano. Ma parte subito aggressivo. Mamma mia. Un 40 subito è sempre brutto da subire. Soprattutto che ho trovato lo squirtual. Esatto. Cioè, hai capito? Mamma mia. Questo squirtual correction che ha. Oya Ron veramente è un ottimo player. ADR. Sì, sì, assolutamente. Ok, abbiamo un limit che potrebbe chiudere. Sì, con il down B. Però niente di fatto. Quindi, ok, abbiamo un Charizard che potrebbe ribaltare completamente la situazione. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Esatto. E' perché è quello che funziona. Esatto. Quando Serra usava il CDB di Banjo a cazzo. Esatto. La percentuale di successo era del 98%. Mamma mia. Uuuuh. Ci ha provato. Uuuuh. A cazzi duri. A cazzi duri. Pesce. Pesce. Mamma mia. Pesce a pesce. Pesce a pesce. Pum. Porca vacca. Ok. Piantasauro cerca di recuperare sicuramente la situazione. Lo sono recuperati. Mamma mia. Con la peste. Se entra nella peste. Si no. Ma poi nel culo. Nel culo fa sempre male ragazzi. Non è vero che fa piacere. Cioè io non lo so. Ovviamente. Sei sicuro. Ovvio che sono sicuro. Porca. Sicuro di non parlare dell'esperienza. Eh. Non so. Non mi piace quel campo. Però mi ha provato. Sei sicuro ma non l'hai trovato. Vabbè. Basta parlare di cazzo. Vabbè. Mi sembra di cazzo di seguire invece. Lasciamo questa cosa al soltino. Abbiamo. Abbiamo. Piantasauro che. Che è in svantaggio. Nuovamente. Eh. Di poco. Questo cloud è. Più aggressivo in modo giusto. Però io. Ah. Ciaccava il triplo. Mamma mia. Mamma mia lo prende. Lo mette in situazione di svantaggio. Se riesce a fare un buon edge guarding. Non fa il beccato. Eh no. Ma chi è inizia. Oh. Mamma mia. Ma il charizard non muore. Eh. Muore. E l'ha cercato fuori. Eh ma l'ha cercato fuori. Ok. 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 Piantasauro. Cloud. Piantasauro. Air. Cloud entra. Piantasauro subisce. Piantasauro presa. Mamma mia. Cattivo. 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 Mamma mia. Ok. Lo mette fuori. Ci trova. Lo cerca. Gli taglia una pianta. Oddio. Oh no. Eh. Mamma mia. Ti prego Imper. Non perché. Perché almeno così diventate pari e fa più riedere fuori. Ehi. Quindi Imper cerca di fare del tuo meglio. Niente. Lo sbatte in terra. Lo stai chiamando. No. Mamma mia. No. Stai chiamando la vittoria di Oio Romeo. No. Dai Imper. Dai. Vediamo il game 5. So, so che c'è un vero uomo. Dai. Abbiamo avuto il game 5 di Steve Feet. Lo possiamo averlo di Impero Oio Romeo. Esatto. Mamma mia. LuiO. Mamma mia. Pessimo. Mamma mia. Mamma mia. E Oio Romeo per la primavera. Fala casa umantire. Le legge il futuro. L'ho infilato ad un palazzo di cazzine.